Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizione dell'Udc, nuovo presidente, eletto alla seconda votazione anche con i voti dell'opposizione. Ragusa, cocaina e marivana nello zaino ha arrestato un extracomunitario di 26 anni dalla Guardia di Finanza. Vittoria autocade in un burrone incontro da Cappellaris salva la conducente dopo un volo di 15 metri. Nomina liquidatore Amium o scato del PDL dichiara contraddittore alle giustificazioni del sindaco. A Cate oggi lezione di teatro per gli studenti di Ristituto Alessandro Volto, obiettivo migliorare il rapporto interpersonale. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Fnews. In apertura lo avete sentito dei titoli, ci occupiamo di politica regionale. Giovanni Ardizione, il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana, è stato eletto alla seconda votazione con 46 preferenze su 90, il minimo necessario. Per la prima votazione ne servivano invece i due terzi. Decisivo comunque il ruolo dell'opposizione che ha garantito con i calcoli fatti per così dire a tavolino i voti necessari e mancanti. Buona alla seconda, Giovanni Ardizione dell'Udc, avvocato di 47 anni, è il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. È stato eletto alla seconda votazione dopo la prima fumata nera con 46 voti, il numero minimo per poter essere eletto. Antonio Venturino del Movimento 5 Stelle ha avuto 15 voti. Giuseppe Lupo del PD4, Antonello Cracolici del PD, Giancarlo Cancellieri del Movimento 5 Stelle, Arancio del PD e Alloro del PD due voti, 13 schede bianche. Dunque la maggioranza allargata ha funzionato alla perfezione, visto che il presidente Crocetta può contare solo su 40 deputati. Ma c'è stato anche qualcuno che dall'opposizione ha provato a creare scompiglio votando altri esponenti della maggioranza o il capogruppo del Movimento 5 Stelle Cancelleri. Ha voluto ringraziare tutti il neopresidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizione subito dopo l'elezione. Ardizione ha quindi preso il posto nello scranno più alto di Palazzo dei Normanni. Assicuro il mio impegno ufficiale affinché cessi la prassi delle leggi di spesa approvate nottetempo, spesso frutto di compromessi al ribasso. A questo punto, se vero il detto latino pacta servanda sund, all'opposizione MPA, Grande Sud e PDL e Cantiere Popolare, dovrebbero andare una vicepresidenza, un deputato questore e due presidenze di commissioni parlamentari. Insomma, la prima seduta dell'Ars è stata l'insegna del volemosebbene e altro che rivoluzione. Altro cambio della guardia all'Asp 7 di Ragusa, Salvatore Cirignotta ritorna a Palermo a dirigere l'Asp 6 del capoluogo siciliano. A Ragusa arriva invece l'architetto Angelo Aliquò, l'ex capo della segreteria dell'assessore alla sanità Massimo Russo. Cirignotta aveva sostituito Ettore Girotta lo scorso 14 luglio e solo dopo quattro mesi rientrerà dunque a Palermo. Sull'avvicendamento è probabilmente appesato il giudizio negativo, espresso forse da qualche deputato ebleo naturalmente sulla vicenda. Ritorneremo nelle prossime edizioni del nostro TG. Passiamo adesso alla cronaca. A Ragusa la guardia di finanza ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario del Nord Africa trovato in possesso di cocaina e marijuana. Il giovane di 26 anni è stato fermato in piazza Zama a Ragusa mentre era in attesa di un autobus per il Nord Italia. Scusate, vediamo. Ha arrestato un cittadino extracomunitario per spaccio di droga. Nell'ambito di mirati controlli predisposti a livello provinciale a contrasto del traffico e dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti. I finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Ragusa hanno sequestrato un cittadino extracomunitario di 26 anni, 281 grammi di marijuana, 11 grammi di cocaina e 170 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Lo stesso è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Il servizio è scaturito dalla speciale capacità e protezza di una pattuglia che ha effettuato un turno di servizio nei pressi di piazza Zama, presso la capolinea del pullman di linea extraurbana interregionale. Il posto è un luogo notoriamente conosciuto dagli operatori di polizia come area di sosta o di incontro tra extracomunitari residenti nel capoluogo e provenienti da altre località, dediti all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di osservazione effettuati nei pressi dell'area destinata alla sosta dei mezzi di trasporto pubblico, i militari hanno controllato il giovane che erano attesa di prendere un autobus per una città del nord Italia. Nel corso del controllo effettuato, all'interno di uno zainetto, è stato trovato un involucro contenente marijuana pronta per essere destinata allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altro stupefacente nonché un ovulo con all'interno della polvere bianca confezionata con cellofan che da immediate analisi speditive effettuate con drop test è risultata essere cocaina. Il valore dello stupefacente sequestrato, se messo al consumo, avrebbe fruttato all'incirca 4.000 euro. Ancora cronaca, brutto incidente stradale ieri a Vittoria, un'auto condotta da una donna di 43 anni precipitata in un burrone nei tornanti di contrada a Cappellaris e nonostante il volo la donna si è salvata e adesso si trova ricoverata all'ospedale Carnizzaro di Catania con una prognosi di circa 30 giorni. Finisce con l'auto in un burrone, protagonista una donna di 43 anni che ieri pomeriggio, mentre era alla guida della sua Y10 incontrata Cappellaris a Vittoria, ha perso il controllo del veicolo finendo in una cava dopo un volo di circa 15 metri. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, la sfortunata signora è stata recuperata dal personale dell'elisoccorso e portata in superficie con lo stesso velivolo. Le condizioni di salute sembravano più gravi tanto che i sanitari avevano ritenuto di trasportare la ferita a Catania con lo stesso elicottero. I vigili del fuoco hanno faticato per estrarre la donna dalle lamiere contorte dell'auto. Dopo aver sentito il marito, gli agenti della polizia municipale attendono di ascoltare la moglie, che come detto si trova ricoverata al Carnizzaro di Catania, dove per fortuna non versa in gravi condizioni. Per lei frattura le coste le giudicate queribili in un mese. Sul posto è anche una gru per rimuovere quello che è rimasto dell'auto. Fino ha lavorato per recuperare la carcassa del mezzo. Una collaborazione salva vita, è proprio il caso di dirlo, tra gli agenti della questura di Ragusa e quelli del commissariato di Bagheria in provincia di Palermo. Una donna ha infatti tentato il suicidio, ma è stata salvata dagli operatori di polizia. Sentite il servizio. Salvata dagli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa, una giovane donna di Bagheria che aveva scritto un sms al suo psichiatra ragusano in cui diceva di volersi suicidare. Questi i fatti. Alle ore 12 di ieri lo specialista ha contattato il 113 dicendo di essere molto preoccupato perché una sua paziente palermitana che risiede a Bagheria le aveva inviato un sms dal contenuto più che esplicito dove faceva presente che si sarebbe suicidata in quanto schiacciata dai problemi che il medico ben conosceva da tempo. Immediata è difficilissima l'attività di soccorso degli agenti poiché il medico sapeva solamente che la donna è un'insegnante che lavora presso liceo di Palermo, nulla invece sulla residenza e sulle generalità del marito. Gli agenti hanno allora iniziato l'attività di ricerca facendosi fornire dal comune di Bagheria tutti i residenti con le generalità della donna che nel frattempo aveva spento il cellulare. Alle 13.30 gli agenti sono riusciti a risalire alla residenza della signora dove in pochi minuti si è recato una volante del locale commissariato. Gli operatori attraverso una finestra hanno riconosciuto la donna riversa a terra in stato di incoscienza. Immediatamente sono allora entrati in casa per assicurarle i primi soccorsi in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che ha trasportato la Palermitana in ospedale. La vittima aveva assunto numerosi barbiturici ma grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato è stata salvata appena in tempo. Adesso è ricoverata in ospedale ma è fuori pericolo di vita. E sempre gli agenti della squadra volanti della questura di Ragusa ieri hanno denunciato una nigeriana per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento di beni dello Stato. Moleste clienti di un supermercato chiedendo loro con una certa insistenza del denaro. Una donna di 30 anni nigeriana residente a Ragusa è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento di beni dello Stato. In particolare ieri mattina intorno alle 10 il titolare del supermercato di via Mongibello a Ragusa ha chiamato il 113 per segnalare la presenza di una donna extracomunitaria che infastidive i clienti. La volante giunta sul posto ha chiesto alla nigeriana di allontanarsi dal parcheggio del supermercato ma la donna per tutta risposta ha iniziato ad imbeire contro gli agenti insultandoli e rifiutandosi di consegnare i documenti e di fornire le proprie generalità. Gli operatori l'hanno a quel punto invitata a seguirli in questura per identificarla ma la donna ha continuato ad opporre un'energica resistenza. Gli agenti le hanno anche chiesto di farsi portare i documenti da un familiare ma dopo essersi categoricamente rifiutata la donna si è scagliata contro uno di loro colpendolo a volto con uno schiaffo. Solo l'intervento dell'altro operatore ha permesso di bloccarla. Con grande sforzo la trentenne è stata fatta salire sulla volante e durante le operazioni tanta è stata la violenza utilizzata che ha danneggiato lo sportello dell'auto di servizio. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso. La donna è stata denunciata in stato di libertà essendo madre di un mammino di tre anni che doveva andare a prendere a scuola essendo separata dal marito. A Scoglitti i carabinieri hanno tratto in arresto un tunicino di 24 anni che nascondeva 50 grammi di hash in un casolare. Sentiamo. Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Vittoria. Arrestato un tunisino di 24 anni. Ieri nel corso di un ulteriore servizio in abiti civili, questa volta concentrato nella zona riverasca, hanno tratto in arresto a Gwendil Kajem tunisino incensurato. Nello specifico si tratta di un'operazione svolta congiuntamente dai militari della sezione di Scoglitti e dai colleghi di Akate, i quali da diverso tempo seguivano i movimenti del tunisino. Nella serata di ieri è scattato l'intervento che ha permesso di rinvenire nel sottoscala di un casolare abbandonato incontro d'anguilla, occultata poco prima dallo stesso, hashisce per un peso complessivo di 50 grammi circa, già suddivise in stecchette. Il tutto è stato immediatamente sottoposto a sequestro, mentre il tunisino è stato condotto presso la caserma di via Plebiscito, da dove, al termine delle formalità del rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il luogo di dimora, a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con l'arresto di ieri sono 46 soggetti tratti in arresto nella flagranza del reato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria, dall'inizio dell'anno 2012, nell'ambito della lotta alla droga. Mancato il rilascio di scontrini e delle rigevute fiscali, la Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito 5 chiusure temporanee di esercizi commerciali. L'attività della Guardia di Finanza di Ragusa, indirizzata al contrasto delle irregolarità nell'emissione dello scontrino e della rigevuta fiscale, ha consentito nel mese in corso l'esecuzione di 5 provvedimenti di chiusura di altrettante attività commerciali. Le fiamme gialle hanno apposti sigili ad un ristorante, ad un panificio, a un negozio di frutta e verdura, a un rivenditore di bombole di gas e a un negozio di abbigliamento, quest'ultimo gestito da un cinese. Ai 5 esercizi è stata inflitta la chiusura per 3 giorni consecutivi. I provvedimenti sono stati emessi dalla direzione regionale di Palermo a seguito di 4 distinte mancate missioni dello scontrino fiscale negli ultimi 5 anni accertate dai militari della Guardia di Finanza nel corso dell'attività di controllo. Dall'inizio dell'anno il comando provinciale di Ragusa ha eseguito nei confronti di tutte le categorie economiche 2.707 controlli tesi a verificare la regolare emissione dello scontrino e della rigevuta fiscale. Di questi il 40,5% ha dato luogo alla rilevazione di infrazioni. Inoltre dal 1 gennaio sono state già effettuate ben 60 chiusure di esercizi, una delle quali per 10 giorni lavorativi. Le categorie interessate sono state varie, ma il dato preoccupante è rappresentato dal fatto che più del 50% dei provvedimenti ha riguardato attività commerciali gestite da ginesi. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, tra poco.